A tutti ben ritrovati. Prime indicazioni sull'inverno 2015-2016. Ancora manca molto alla prossima stagione, ma possiamo dare delle prime indicazioni sommarie su come potrebbe presentarsi la stagione invernale. Molte analisi verranno fatte nel corso dei prossimi giorni. Questa prima analisi riguarda invece lo scenario che è derivante dalla distribuzione delle anomalie delle acque oceaniche. Queste anomalie sono importanti perché possono dare in un certo senso un'impronta alla prossima stagione invernale. Cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che l'inverno potrebbe essere caratterizzato a due velocità, con una prima parte piuttosto mite e spesso anticiclonica, ma anche contrassegnata da intense depressioni sull'Europa centro-occidentale. Ed una seconda parte invece molto più dinamica perché questi anticicloni potrebbero presentarsi alle alte latitudini, andare verso nord e quindi attivare delle discese di aria più fredda verso l'Europa centro-meridionale. Da questo ne deriverebbe che il Mediterraneo potrebbe presentarsi sopra la media pluviometrica, mentre le anomalie negative sarebbero più a nord, mentre per quanto riguarda le temperature più basse dovrebbero attendere l'Europa centro-settentrionale, mentre quelle più alte il Mediterraneo e soprattutto la Spagna e l'Europa occidentale in genere. Ne riparleremo, grazie e arrivederci.